Il 17 luglio potrebbe essere una data storica per Ponte Buriano, è infatti segnato nell'agenda del Presidente del Consiglio dei Ministri un incontro a Roma per dare una soluzione definitiva a questa bellissima opera d'arte. Il Ponte Romanico, che dopo la seconda fase del suo restauro è stato riaperto al traffico, dovrebbe, secondo molti, essere invece chiuso definitivamente al passaggio di auto e mezzi pesanti. La visita del ministro Danilo Toninelli risale lo scorso febbraio, adesso la Presidente Chiassai è riuscita a coinvolgere anche uno degli organi costituzionali più importanti del nostro ordinamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. A maggio, durante la sua visita nel territorio aretino, in questo caso nel borgo di Rondine, Conte venne informato della questione e attraverso i suoi uffici si è fatto coordinatore tra i vari ministeri identi coinvolti, convocando direttamente a Palazzo Chigi un tavolo di confronto. Tre i punti all'ordine del giorno, il restauro di Ponte Buriano che verrà liberato definitivamente dal traffico veicolare, la realizzazione di un guado provvisorio su cui spostare la mobilità e la realizzazione di un nuovo ponte che risolverà definitivamente le problematiche di questo ponte storico che anche il grande Leonardo da Vinci aveva scelto per lo sfondo della sua gioconda.